No, non è il set di un film di quelli erotici, però l'ho fatto in tempo a far male la doccia, mi stava asciugando i capelli, mi arriva la notifichina, pa 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 pa, Buffon è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain, Cristiano Ronaldo alla Juventus, Buffon che se ne va, e va al Paris Saint Germain, Di Maria che potrebbe diventare presto un nuovo giocatore del Napoli, Messi che è praticamente fatta giocherà nella Roma, lo sapevate? Non lo sapevo manco, ciao, tutto il resto è vero, bella a tutti da me, 43 secondi, ormai orologio svizzero, bella a tutti da me, siamo tornati con questo nuovo video perché Buffon oggi a Parigi, già si sapeva che era a Parigi, erano trapelate foto in cui Buffon entrava nella sede del PSG, non pensate a male, non c'entra niente la signora Ilaria da me, ha effettuato le vizie mediche a passato e quindi diventate un nuovo giocatore del PSG, ok? Parlo tipo che è son, perché sono the canos, the bear, vabbè, raga, io non ho più parole per descrivere quello che sta succedendo ultimamente al calciomercato, perché comunque ogni giorno ne esce una nuova, vero che Cristiano Ronaldo ancora non è un giocatore della Juve, vero che Di Maria non è ancora un giocatore del Napoli, però già solo a sentire la puzza desti giocatori te lascia veramente a bocca aperta, ci abbandona un grande del calcio italiano e mi dispiace dirlo, ma se il Paris Saint-Germain ha deciso di puntare su Buffon per la prossima stagione con opzione per un'altra stagione ancora, quindi con opzione di rinnovo fino al 2020, a 4 milioni di euro a stagione, ma non è che la Juventus abbia fatto una cazzata? Voi mi direte tifosi della Juve, no, perché era ora di lasciare spazio a Cesni che se no tra un po' ha 50 serie di Lascesni e Buffon ancora sta a corgirello davanti la porta della Juventus, è stata una scelta sicuramente societaria, ma lo ripeto, io sfido qualsiasi società, anche grande come la Juventus, potente a livello economico, a livello di bravura dei giocatori, di forza e quant'altro, a fare una scelta così drastica e comunque a lasciare spazio, a lasciare spazio agli altri, è una scelta societaria che rispetto e che apprezzo, per carità, però, insomma, lo ripeto, pensando che Buffon comunque alla fine è andato al Paris Saint-Germain, che la prossima stagione si giocherà la Champions League e li potrebbe affrontare da avversari, te lascia proprio, cioè, sono sensazioni particolari e penso che un tifoso della Juventus le viva ancora peggio, perché comunque, cioè, Buffon fino all'altro giorno difendeva i loro pali. Ripeto, c'ha l'opzione anche per il 2020 a 4 milioni di euro a stagione, quindi no a 500 euro, cioè, stiamo parlando di soldi, contratto ancora da top player, da portiere dei quelli esagerati. Sono sicuro che al Paris Saint-Germain serviva un portiere de caratura importante, con esperienza importante, per provare ad andare il più avanti possibile in Champions League. Non dico a vincerla, però, oh, regà, ricordatevi sempre, Neymar, Cavani, Mbappé, il centrocampo non è che sta messo male, la difesa non è che sta messa male, importa attualmente, non è che fa poi così schifo. Diciamo che gli manca proprio l'esperienza e, appunto, lo ripeto, secondo me Buffon in tal senso credo che sia il miglior acquisto che abbiano potuto fare, perché comunque trasmetterà sicuramente sicurezza al reparto, ma voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti di Buffon al Paris Saint-Germain. Ragazzi, mi hai lasciato un bel mi piace su questo video? Arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio, per oggi spero che bastano. Ce la faccio più, questo è il quinto video e stasera ci sta il post partite. Sono notizie di cui voglio parlare e dovesse uscire pure che Cristiano Ronaldo è ufficiale, io ce la faccio più. Commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, sondaggio in alto a destra che per me è la sinistra, per voi è la destra, in cui vi chiederò di dare un voto al colpo Buffon Paris Saint-Germain, da 1 a 5. Fatemelo sapere che cosa ne pensate, soprattutto se avrebbe potuto fare ancora una stagione, magari anche due ad altissimi livelli con la Juventus, se secondo voi la Juventus ha fatto bene a lasciarlo andare e tutto il contorno. Va bene? Ok? Posso andare? Mi sto sfiatando i caldo, sto risudando come una bestia, mi sa che mi devo rifare un'altra volta la doccia. Alla prossima con un nuovo video, ciao belli!